Non so cosa intendi per responsabile, qualcuno aveva forse intenzione di andare a sostenere questo governo ed è assolutamente irresponsabile. Mi pare che si stia facendo largo ma non credo che accadrà la prospettiva, questo è un governo che non è mai nato, non ha mai cominciato a governare e temo che mai comincerà a governare. L'alternativa sono o le elezioni o un governo con tutti dentro che metta a mano una volta per tutte i problemi strutturali del paese che ci sono, obiettivamente inutile negarlo e che nessun governo legittimamente eletto ad oggi ha avuto la forza di affrontare. Per me le elezioni sono la soluzione migliore ma piuttosto che continuare ad assistere alla straziante scena di questo governo con questa maggioranza litigiosa e incapace meglio sarebbe un governo con tutti dentro. Fratelli d'Italia si è già sfilata in realtà da questa ipotesi? Lo so ma è questione inevitabile, purtroppo c'è questa corsa tra Salvini e la Meloni a chi è più sovranista, l'ipotesi l'ha lanciata Giorgetti che non mi pare che sia un antagonista di Salvini e mi sembra di buonsenso. E' chiaro che se qualcuno si tira fuori per gridare ai poteri forti o a quant'altro a maggior ragione non si farà mai. Conte, naturalmente.